Buongiorno ragazzi, oggi cominciamo a parlare della vita di Francesco Petrarca. Ovviamente per affrontare la vita di Francesco Petrarca dobbiamo prima fare riferimento a quello che è il contesto storico nel quale si mosse e visse appunto Francesco Petrarca e anche Giovanni Boccaccio. Un contesto storico che è diverso rispetto a quello in cui era vissuto Dante e che quindi necessariamente ha condizionato diversamente l'opera di Francesco Petrarca. Per definire questo secolo, il 1300, è stata utilizzata l'espressione autunno del medioevo, una felice definizione dell'olandese Johanna Huizinga con cui l'olandese, questo storico olandese, volle esprimere proprio l'esaurirsi delle istituzioni politiche e delle istituzioni culturali del passato, contemporaneamente alla nascita, sia pure ancora imbroniale, di quello che sarebbe stato un nuovo scenario che avrebbe appunto interessato l'Europa. Si tratta fondamentalmente di un secolo di transizione, un secolo di trasformazione storico-politica, socio-economica e culturale, cioè un secolo nel quale le grandi trasformazioni hanno investito tanto l'ambito economico quanto quello storico-politico e quello culturale. Dal punto di vista strettamente economico, questo secolo si è caratterizzato per una profonda recessione, che è stata in qualche modo anche alimentata da carestie e da epidemie. Carestie ed epidemie che hanno causato in un processo a catena lo spopolamento intero di campagne di areebane, quindi si può parlare di una vera e propria implosione di tipo demografico. Tra queste carestie ed epidemie, in particolar modo quella che viene ricordata, anche perché è diventata punto di riferimento letterario, è la peste nera del 1348, che ha ridotto la popolazione europea di un terzo e ha accentuato evidentemente quella che era già in corso come crisi demografica e la conseguente instabilità di tipo economico. In questo secolo le oscillazioni dei prezzi, le oscillazioni appunto della circolazione monetaria hanno decretato anche un generale impoverimento dei ceti popolari, che diede luogo questo impoverimento dei ceti popolari a frequenti fenomeni di rivolte in tutta Europa, quei fenomeni noti appunto come jacquerie. Anche la borghesia economica e la borghesia finanziaria sono state profondamente colpite da questa crisi economica, soprattutto a seguito della cosiddetta crisi delle banche. crisi delle banche che fu determinata spesso dall'insolvenza dei sovrani e dei principi europei. I sovrani e i principi europei infatti avevano preso del denaro dalle banche, avevano preso proprio a debito questo denaro dalle banche, contraendo dei debiti per finanziare le proprie guerre, ma non essendo più in grado di onorare questi debiti pagando, hanno determinato una profonda crisi dell'istituzione bancaria. La crisi finanziaria ebbe poi come immediato effetto la scelta della borghesia di investire i propri capitali in beni immobili e in proprietà fondarie, dando inizio a quel fenomeno di rifeudalizzazione, ovvero di generale riorganizzazione del sistema economico, con la tendenza appunto ad investire nell'acquisto di terreni, che sembrò un evidente passo indietro rispetto a quelle che erano state le evoluzioni dinamiche e attive della borghesia mercantile del periodo immediatamente precedente. Da un punto di vista invece politico possiamo dire che si poté riscontrare una crisi, il 300V della crisi dei poteri universalistici di impero e papato e il consolidarsi delle cosiddette monarchie nazionali in Europa e delle signorie in Italia. Per quanto riguarda per esempio l'impero, dopo la morte di Enrico VII, Carlo IV di Bohemia abbandonò definitivamente ogni ambizione sul territorio italiano, concentrandosi invece sui territori dell'Europa orientale e facendo quindi venire meno la pretesa centralità di Roma. Si può dire che da Carlo IV di Bohemia la corona imperiale divenne sempre di più un fatto di interesse germanico, quando poi nel 1356 venne emanata la bolla d'oro, con la quale l'elezione imperiale avveniva sotto il controllo dei sette grandi elettori tedeschi, di fatto la corona imperiale divenne un problema esclusivamente germanico. Questa situazione fece sì che l'impero continuò a sopravvivere sul piano formale ma venne completamente spogliato da ogni concreta possibilità di azione. A partire da questo momento l'impero diventa un fatto che non riguarda l'intera Europa, perde la sua dimensione di carattere universalistico, rimane un nome senza più avere quella sostanza che gli aveva conferito appunto la storia antica. Lo stesso principio di decadenza interessa anche l'altra istituzione universalistica medievale, vale a dire il papato, anche il papato è entrato in crisi. La politica teocratica di alcuni papi, ad esempio, è entrata in conflitto con la pretesa di alcuni sovrani nazionali di controllare i vescovi all'interno dei propri confini. L'esempio forse più eclatante è quello rappresentato dal conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello di Francia. Filippo IV il Bello di Francia pretendeva infatti di imporre il pagamento di imposte agli ecclesiastici francesi senza il consenso della Santa Sede. E questo suscitò decisamente il rifiuto di approvazione da parte di Bonifacio VIII. Nel 1309 si compì poi lo spostamento della sede papale da Roma ad Avignone, uno spostamento che si sarebbe concluso solo nel 1377, ad opera di Clemente V. Questo spostamento della sede papale da Roma ad Avignone, se da una parte ha confermato il declino della centralità di Roma, non più solo dal punto di vista imperiale ma anche dal punto di vista del papato, quindi Roma non è più né centro dell'impero universale e non è neanche più centro della cristianità, dall'altro lato esprime in maniera inequivocabile l'ormai avvenuto assoggettamento del pontefice al sovrano francese. Tuttavia, un altro problema che in questo periodo interessa strettamente il papato è quello relativo alla cosiddetta mondanizzazione della vita nella corte papale. Nella corte papale, quella in particolar modo avvignonese, infatti si esagerava in lussi e in un genere di vita secolare, determinando un enorme dispendio economico per fini che non erano legati alla chiesa oppure alla spiritualità. Ovviamente, questo genere di vita secolare, mondano e non legato alla spiritualità della chiesa determinò e suscitò tutta una serie di voci critiche interne alla chiesa stessa, voci critiche interne alla chiesa stessa, soprattutto di parte francescana, che cominciarono a contestare lo stesso potere temporale della chiesa e che invece si facevano promotori e allo stesso tempo sostenitori di una riforma spirituale. La crisi del papato si trovò, diciamo, la sua espressione proprio nel 1377, allorquando Gregorio XI riportò la sede papale a Roma e allorquando la sua prematura morte fece sì che venissero eletti due papi distinti e separati, un papa romano e un papa avignonese. Questi con la conseguente scissione dei fedeli tra coloro che sostenevano il papa romano e coloro che invece sostenevano il papa avignonese. Questa scissione dei fedeli in due gruppi che sostenevano due diversi pontefici prese il nome di Scisma d'Occidente. Ebbe inizio nel 1377 con l'elezione del papa e dell'antipapa e si sarebbe conclusa solo nel 1417. Però, come stavamo dicendo, questa crisi dei poteri universalistici del papato e dell'impero fu anche, diciamo, all'origine della progressiva ascesa delle cosiddette monarchie nazionali, del fiorire di monarchie nazionali che erano fondate su una politica di accentramento del potere con la conseguente limitazione delle libertà e dei privilegi delle aristocrazie feudali. Il sistema fu reso possibile dalla realizzazione contemporanea di un apparato burocratico di funzionari che erano sotto il diretto controllo della corona. Ovviamente la nascita delle monarchie nazionali decretò anche una trasformazione della concezione dello Stato. A fianco al potere esercitato dal sovrano cominciarono a prendere forma delle organizzazioni, degli organi assembleari che, all'interno dei quali, diciamo, i ceti più forti facevano sentire la propria voce e riducevano o provavano comunque a ridurre di fatto il potere altrimenti assoluto del re. Va chiarito che lo sviluppo, appunto, come abbiamo detto, l'affermazione degli stati nazionali fu anche all'origine del primo emergere di conflittualità. Conflittualità che opposero stati tra di loro sovrani. Un esempio, forse l'esempio più eclatante, fu quello della cosiddetta guerra dei cent'anni. Il più duraturo conflitto del Trecento iniziò nel 1337 e si concluse solo nel 1453. La durata enorme di questo conflitto fu anche determinata dal ricorso a soldati mercenari di professione, le cosiddette compagnie di ventura, che avevano tutto l'interesse a tenere vivo il conflitto per assicurarsi la paga, trasformando quindi la guerra in un vero e proprio affare. Ora, accanto a questi fenomeni, diciamo, che riguardano la dimensione economica e la dimensione politica, tuttavia il secolo si caratterizzò anche per una evoluzione, un cambiamento dei cosiddetti modelli culturali. L'evoluzione infatti della società comunale in direzione delle signorie ha comportato anche un'evoluzione dei modelli di tipo culturale. Tanto per cominciare, se nel corso del Duecento il borghese aspirava a fare propri modelli culturali della società feudale, della nobiltà feudale, nel Trecento la borghesia mercantile, che la protagonista trionfante delle novelle di Boccaccio cominciò a subire una progressiva involuzione, andando sempre di più a chiudersi in veri e propri egoismi di classe e in una visione greta e opportunistica dei rapporti umani. Da un punto di vista culturale, questo secolo segna il declino della scolastica e del simbolismo e dell'allegorismo medievali. Questo declino della scolastica e del simbolismo e dell'allegorismo medievali è espressione frutto di un'evoluzione graduata segnata da compresenze e da convivenze. Infatti scolastica e allegorismo e simbolismo entrano gradualmente in crisi, non scompaiono improvvisamente. Il principio, in particolare alla base di questa decadenza, di questa crisi, c'è la crisi del principio di fondo su cui si basava la scolastica, ovvero l'idea che ci potesse essere armonia tra fede e ragione, tra divino ed umano, tra teologia e filosofia. A mettere in crisi quest'idea che ci potesse essere un'armonia di fondo tra ragione e fede furono diversi pensatori. Sicuramente grande importanza ebbe in questa direzione Guglielmo di Ockham, noto per la celeberrima invenzione, tra virgolette, del cosiddetto rasoio di Ockham, ma importante anche in questo momento perché fu colui che sottolineò come le verità di fede non potessero essere accertate per via razionale, ma dovessero essere accertate per pura adesione di fede. Un aspetto essenziale di questo secolo è anche la scelta di separare a questo punto in maniera netta e inequivocabile la filosofia dalla letteratura e in particolar modo dalla poesia. La poesia comincia a rivendicare la propria dignità rispetto alle altre discipline. L'idea che la poesia debba essere una esposizione in versi di dottrine e di convinzioni di tipo filosofico entra gradualmente in crisi. Nasce in questo secolo l'io lirico, scisso dall'io filosofico. Ovviamente la nascita dell'io lirico che si distingue nettamente dall'io filosofico e dalla funzione legata all'io filosofico fa sì che questo secolo venga riconosciuto come il secolo precursore dell'umanesimo. In questo contesto di crisi e di trasformazione nasce Francesco Petrarca. Allora, Francesco Petrarca nasce ad Arezzo il 20 luglio del 1304 e il figlio di Esuli Fiorentini, in particolar modo del notaio fiorentino Ser Petracco, che era un guelfo bianco che era stato esiliato nel 1302 e i cui beni erano stati conquistati. Francesco Petrarca si sentirà sempre fiorentino, benché avrebbe visto Firenze solo nel 1350 avendovi fatto tappa mentre tornava da Roma a seguito del giubileo. Si definirà in exilio genitus, in exilio natus e quindi individuerà proprio nell'esilio un tratto caratteristico della propria personalità. Il fatto di essere straniero dovunque, peregrinus ubique, lo farà in qualche modo lo farà sentire libero da quelli che sono gli interessi di parte e da quelli che sono soprattutto gli interessi legati alla vita comunale di Firenze. Nelle lettere descriverà la propria condizione come improntata ad un esilio permanente che lo rese ovunque straniero. Questo segna e rimarca in maniera inequivocabile una distanza rispetto a Dante, per esempio. Bene, come abbiamo detto nel 1312 però la famiglia che fino a quel momento aveva vissuto ad Arezzo si stabilì a Carpentras, presso Avignone. Nel 1307 era nato il fratello di Petrarca, Gerardo, con il quale Francesco Petrarca avrebbe sempre avuto una relazione di profondo e sincero affetto. La famiglia si trasferì, come abbiamo detto, nel 1312 a Carpentras, presso Avignone, a seguito della corte papale che, come abbiamo già spiegato precedentemente, nel 1309 si era trasferita ad Avignone. Ad Avignone quindi erano giunti molti sui fiorentini in cerca di lavoro e tra questi anche il padre di Francesco Petrarca che aveva trovato quindi un lavoro presso la corte papale. A Carpentras Petrarca comincia a compiere i primi studi di grammatica, di retorica e di dialettica. Solo nel 1316 si trasferirà a Montpellier dove comincerà gli studi, inizierà gli studi di diritto civile per esplicita volontà del padre che vorrebbe indirizzarlo alla strada appunto del notarile. Così come notaio era appunto la professione paterna, avrebbe voluto che il figlio Francesco Petrarca svolgesse la stessa funzione e sempre in questa direzione nel 1320 lo inviò a Bologna perché completasse i suoi studi giuridici. Ma a Bologna Petrarca scopre la cultura dei classici e la poesia in volgare e quindi comincia quella che è la conoscenza della sua reale passione, la letteratura e gli studi di tipo umanistico. Non solo, Bologna è una sede nella quale stanno prendendo particolarmente piede gli studi, i primi studi di tipo filologico e sempre a Bologna comincia lo studio di quelle antichità classiche che lo avrebbe condotto a vivere una vera e propria passione per il mito della Roma antica. Ora questa formazione variegata petrarchesca tuttavia venne interrotta in maniera risoluta nel 1326 allora quando il padre muore prematuramente e Francesco Petrarca è richiamato improvvisamente ad Avignone dove deve necessariamente trovare un impiego e deve trovare un impiego per poter appunto mantenere la famiglia. Quindi dalla vita diciamo di studente anche un po' scapestrato che stava svolgendo a Bologna si trova improvvisamente immerso nella realtà degli adulti, in una realtà adulta in cui il senso appunto del dovere ma allo stesso tempo l'impegno quotidiano e assiduo sembrano prevalere sulla possibilità di dedicarsi alle sue passioni. Tornato dunque ad Avignone avviene quello che può essere considerato l'incontro destinato a cambiare completamente la prospettiva di Petrarca. Il 6 aprile del 1327 presso la chiesa di Santa Chiara ad Avignone Petrarca incontra Laura, la donna che avrebbe amato e cantato per tutta la vita, di cui si innamorò a prima vista. Forse la Laura cantata da Petrarca altri non è che Laura di Noves, moglie di Ugo di Sade. Però non lo sappiamo, non sappiamo con certezza. Secondo alcuni critici Laura è realmente esistita, secondo altri invece è solo una metafora poetica attraverso cui il poeta ha voluto dare voce e corpo e nome ad un sentimento vago ma importante. Parleremo lungamente del simbolismo legato a Laura. Però quello che è importante capire è che questa data, 6 aprile 1327, il venerdì santo del 1327 diventa una data spartiacque per Petrarca, una data a partire dalla quale comincia un nuovo percorso lirico, esistenziale e poetico. Secondo il racconto petrarchesco, l'amore che Petrarca nutrì per Laura non prevede alcuna forma di corrisponzione da parte della donna. Fu un amore unilaterale. Solo Petrarca era innamorato di Laura. Laura non corrispondeva a questo sentimento. Nel frattempo, tra il 1328 e il 1329, proprio per le esigenze di tipo economico, Petrarca prende gli ordini minori. Ora, gli ordini minori erano dei ministeri ecclesiastici che non comportavano l'ordinazione sacerdotale, ma che conferivano lo status appunto di chierico. I chierici godevano di tutta una serie di benefici e di tutta una serie di immunità giuridiche e fiscali. Ora, il fatto di non comportare gli obblighi dell'ordinazione sacerdotale, ma di godere dei benefici e delle immunità destinati appunto agli ecclesiastici, era una condizione che sicuramente faceva gola a molti contemporanei di Petrarca. Ma era anche una condizione sbilanciata, talmente tanto sbilanciata che gli ordini minori furono aboliti poi dal Concilio Vaticano II. Sappiamo che nel 1330, a seguito dell'ordinazione di Petrarca, Petrarca entrò al servizio del cardinale Giovanni Colonna e vi rimase fino al 1347, godendo di una rendita e di una discreta proprietà. Questa possibilità appunto di godere di una rendita e di una proprietà che vedremo essere la casa di Valchiusa, gli consentivano di studiare, di leggere, di viaggiare, di fare molte esperienze legate non solo a quelli che erano gli obblighi del suo ufficium, ma anche legate a quelli che erano gli interessi e le sue passioni appunto personali. Ed infatti tra il 1330 e il 1347, gli anni in cui Petrarca fu al servizio del cardinale Giovanni Colonna furono anche gli anni in cui Petrarca compì tutta una serie di importanti scoperte e che furono contrassegnati da un'intensa attività intellettuale. Tanto per cominciare furono gli anni in cui nel 1333 compì delle scoperte di tipo filologico. Scoprì, cioè in senso proprio etimologico, rinvenne, il proarchia di Cicerone. Furono anche gli anni, sempre il 1333, in cui iniziò la sua passione per i libri, la sua passione bibliofila. Infatti il monaco agostiniano Dionigi di Borgo Sansepolcro gli aveva regalato un'edizione delle Confessiones di Sant'Agostino. Questa opera esercitò su di lui una profonda influenza e divenne la prima, proprio la prima opera, il primo tomotesto di quella enorme biblioteca che avrebbe costruito di lì a breve. L'ambiente infatti della corte avignonese era un ambiente ricco di stimoli e di occasioni culturali, soprattutto grazie al mecenatismo dei papi, che in quel periodo si erano fatti protettori di artisti e avevano promosso numerose attività culturali, trasformando la corte papale in un luogo di accoglienza e di scambi di idee. In questo contesto Petraca maturò il suo interesse per la cultura e per i libri e cominciò ad acquistare sempre di più dei testi. Il primo testo che aveva acquistato personalmente era stato un testo acquistato nel 1325 a Bologna. Il primo codice era il Decivitate Dei di Sant'Agostino. Negli anni successivi cominciarono ad aggiungersi sempre più testi. Infine Petraca venne a realizzare una ricchissima biblioteca personale che costituisce veramente un patrimonio molto importante. Ma a dare avvio a questa biblioteca personale fu il libro regalato gli dal monaco Agostinano Dionigi da Bolgo Sansepolcro nel 1333 in visita presso la corte papale di Avignone. Questo è anche un periodo di intensa attività letteraria, il periodo in cui scrive delle epistole in versi, in cui scrive lettere in latino, in cui comincia a scrivere le prime liriche d'amore in volgare destinate a Madonna Laura. Ma questo periodo è anche caratterizzato da un'intensa attività di studio, studio soprattutto dell'antichità e della letteratura, che sviluppano in lui una spiccata sensibilità per le questioni etico-politiche del tempo e in particolar modo per il problema della divisione politica dell'Italia e della corruzione della corte papale. Tra il 1336 e il 1337 Petrarca si reca a Roma, ospite dei colonna romani. Questo viaggio gli fornisce proprio l'immagine, gli restituisce l'immagine di un passato glorioso di Roma e suscita in lui il senso urgente del riscatto etico-civile e culturale della città e della penisola. Petrarca si innamora di Roma e vedendo Roma centro di quella classicità che ama profondamente, ma centro anche di quella cristianità che ama profondamente, vederla ridotta in quella condizione suscita in lui il desiderio di vederla tornare agli antichi splendori, di vedere che le venisse restituito il ruolo centrale della cristianità a discapito di Avignone. Avignone agli occhi di Petrarca diventa sede di intrighi e di corruzione e a questo periodo risale la prima raccolta di liriche in volgare che sarebbe diventato anche l'embrione del futuro canzoniere. Nel 1337, rientrato da Avignone, manifesta Petrarca comincia a manifestare in sofferenza verso il clima della corte papale. Il viaggio a Roma gli ha restituito l'idea di una Roma che era stata in qualche modo mutilata del suo ruolo di centro della cristianità e di centro della classicità. La corte papale diventa per lui invece emblema di corruzione, emblema soprattutto di un furto che era stato compiuto ai danni di Roma e per questo questa insofferenza si concretizza nella scelta di allontanarsi, proprio di distrarsi dalla corte papale di Avignone, di andare a vivere fuori. Decide di trasferirsi a Valchiusa in una piccola proprietà. Valchiusa era un piccolo centro poco distante da Avignone che si trovava presso le sorgenti del fiume Sorca e Petrarca a Valchiusa possiede una piccola abitazione solitaria, una piccola abitazione che sarebbe diventata il suo rifugio di studio e di riflessione. Al desiderio proprio di viaggiare, all'irrequietezza conoscitiva che aveva caratterizzato i primi anni del suo servizio e colonna, subentra in questo momento un desiderio di pace e di tranquillità. È in quello stesso anno che nasce da una donna ignota il figlio, il primo figlio naturale di Petrarca, vale a dire Giovanni. Nel 1338 nell'isolamento di Valchiusa compone l'Africa, un poema epico in esame trilatini sulla seconda guerra punica, e il Deviris illustribus, ovvero una raccolta di biografie in latino di uomini esemplari. Tra il 1339 e il 1340 gli giunge contemporaneamente da Roma, cioè dal Senato romano, che era l'antica istituzione resuscitata nel 1143 dal popolo romano, e da Parigi, cioè dall'Università di Parigi, l'offerta della laurea poetica. La laurea poetica è il massimo riconoscimento e l'espressione di massimo prestigio che potesse essere conferita ad un poeta. Se Parigi era celebre per gli studi di teologia, Roma godeva invece di un prestigio indiscusso in ambito letterario. Questa considerazione è congiunta al significato che Petrarca attribuiva a Roma a seguito del viaggio che aveva compiuto a Roma e a seguito delle riflessioni che aveva fatto sul bisogno e sull'urgenza di restituire a Roma la sua centralità classica, ma anche la sua centralità cristiana, indussero Petrarca a scegliere Roma ai fini della propria incoronazione. Prima di recarsi a Roma, però, Petrarca si recò a Napoli, presso la corte di Roberto d'Angio, dove si fece esaminare lungamente ottenendo una certificazione ufficiale della propria laurea poetica. L'8 aprile del 1341, il giorno di Pasqua, con una cerimonia ufficiale in Campidoglio preceduta dalla proclamazione della collatio laureazionis, ovvero del discorso programmatico per la laurea, Petrarca riceve la laurea poetica e la riceve dalle mani di Orso dell'Anguillara, che era senatore di quel senato romano e amico intimo di Petrarca. Questa laurea si svolse secondo una cerimonia che venne organizzata e venne realizzata sulla base contemporanea di quella che fu una ricerca filologica delle fonti classiche relative all'attribuzione della laurea nel mondo classico, ma allo stesso tempo della simbologia cristiana. La cerimonia fu preceduta da squilli di tromba, seguita da un breve saluto di Orso dell'Anguillara, dalla pronuncia dell'Ave Maria con la quale il neolaureato veniva affidato letteralmente alle cure della Madonna. Petrarca indossava un mantello porpora bordato d'oro, che era un dono di Roberto d'Anguillara a conclusione dell'esame. Indossando questo mantello porpora bordato d'oro, Petrarca pronunciò la sua collatio laureazionis, un testo che ci è pervenuto e che costituisce di fatto una celebrazione della cultura. Quindi gli venne imposta sul capo una corona d'oro, che simboleggiava la dignità a ricevere il titolo di magister e il diritto a sua volta a conferire questo titolo ad altri. Il discorso pronunciato la collatio laureazionis in quel momento fu un vero e proprio manifesto dell'umanesimo europeo. Dopo aver ringraziato i suoi protettori, celebrò la bellezza e la grandezza della poesia attraverso dotte citazioni che erano desunte dalla letteratura latina. Spiegò le ragioni della scelta dell'alloro, perché il profumo dell'alloro è fragranza di buona fama e di gloria. L'ombra che si ottiene dagli alberi dell'alloro è luogo di riposo a coloro che sono affaticati, così come è luogo di riposo dalle fatiche della vita anche la poesia. E la natura sempreverde dell'alloro allude all'immortalità della grande letteratura e dei suoi autori. Al termine del discorso, come accadeva secondo la consuetudine antica, il popolo romano era chiamato ad esprimersi, doveva cioè stabilire attraverso un'ovazione, se fosse o meno il caso, di conferire l'incoronazione poetica a colui che aveva pronunciato il discorso. Bene, il popolo romano con una ovazione riconobbe la legittimità dell'incoronazione e dopo questa ovazione ci fu la cerimonia vera e propria dell'imposizione della corona dall'oro. La laurea poetica costituisce per Petrarca la vera e propria realizzazione di un sogno, un sogno vagheggiato per tutta la vita, ma fu anche all'origine di invidie e di cattiverie ai suoi danni che lo angustiarono per il resto della vita. Ora, quando Petrarca rientrò a Roma da Avignone, rientrò scusate ad Avignone da Roma, conobbe Cola di Rienzo, che era ambasciatore del governo popolare romano presso il Papa e Cola di Rienzo rappresenta agli occhi di Petrarca un incontro particolarmente fortunato perché con Cola di Rienzo Petrarca comincia a condividere quella passione per l'antica gloria di Roma e soprattutto l'aspirazione ad un riscatto civile di Roma. La conoscenza di Cola di Rienzo lo portò nel 1347 ad appoggiare il tentativo, la rivolta di Cola di Rienzo finalizzata a restaurare l'antica repubblica romana. Cola di Rienzo, autoproclamandosi tribuno della libertà e occupando il Campidoglio, aveva compiuto un vero e proprio atto di forza finalizzato a restaurare quella repubblica romana antica vagheggiata tanto da Cola di Rienzo quanto da Petrarca. Questa adesione di Petrarca al tentativo di Cola di Rienzo, per la quale Petrarca non esitò a partire alla volta di Roma, gli costò però definitivamente l'amicizia con la famiglia dei Colonna. Il fallimento del tentativo di Cola di Rienzo, la cui notizia gli permenne mentre era in viaggio e la doluzione politica che ne conseguì, indussero Petrarca a chiudersi in un volontario isolamento a Valchiusa. Ora, questo periodo di isolamento a Valchiusa fu caratterizzato dalla stesura di opere particolarmente significative. Il De vita solitaria, il De ozio religioso, un Bucolicon Carmen, ma soprattutto un'opera nota con il nome di Secretum, opera molto significativa di cui parleremo nel dettaglio più avanti. Nel periodo in cui Petrarca si interessava delle questioni politiche legate appunto al tentativo di restaurazione della Repubblica Romana operata da Cola di Rienzo, si verificò però anche un altro episodio molto importante. Quello stesso 1343 che segnò la conoscenza di Cola di Rienzo fu l'anno nel quale il fratello di Francesco Petrarca, Gerardo, quel fratello con cui Petrarca aveva condiviso la vita e quel fratello a cui era legato da sincero affetto, decide di prendere i voti e di diventare monaco alla Certosa di Montreux. Questo evento accelera la crisi interiore del poeta. Petrarca invidia la vocazione religiosa autentica e sincera del fratello e la confronta invece con quelle che sono le oscillazioni della propria coscienza. Oscillazioni tra fede e desiderio di escesi da un lato e dall'altro lato tutte le passioni terrene, passioni terrene che coinvolgono sia la passione per Laura ma anche il desiderio di fama e di gloria e il desiderio di riconoscimento attraverso appunto la laurea poetica. Insomma si sente in qualche modo dimediato, cioè sente che la sua anima è divisa, da una parte aspira a quella che è la serenità di una piena e completa abbandono a Dio e alla vita religiosa, da un altro lato invece si sente fortemente ancorato a quelli che sono i bisogni della terra. Ha inizio un dissidio interiore che lo avrebbe accompagnato per tutto il resto della sua vita. Questo dissidio interiore si riflette anche nella produzione di questo periodo. Se da un lato scrive infatti dei salmi, quelli che saranno ricordati come salmi penitenziales, sul modello dei salmi biblici, dall'altro lato pone mano alla prima forma del canzoniere, cioè comincia a raccogliere le sue liriche in volgare e comincia a dare alle sue liriche in volgare la forma di un testo compiuto. Questo dissidio interiore che ha inizio di fatto nel 1343, coscientemente, ma che era già operativo precedentemente, trova una sua concretizzazione nel 1348, quando si verifica appunto la peste nera, quella peste nera che stava decimando l'intera popolazione europea. Petrarca si trova a Verona in quell'anno e a Verona gli giunge il 19 aprile la notizia della morte di Laura, che secondo il racconto che ne ricaviamo dalle lettere dello stesso Petrarca e in particolar modo dal codice, dal cosiddetto Virgilio Ambrosiano di Petrarca, sarebbe avvenuta il 6 aprile del 1348, quindi esattamente 21 anni dopo l'incontro tra Petrarca e la donna. Contemporaneamente però viene anche informato della morte del cardinale Giovanni Colonna, col quale i rapporti si erano di fatto interrotti un anno prima e che Petrarca, a cui Petrarca era legato da un profondo affetto e sperava di poter prima o poi ripucire quella relazione che si era interrotta per l'adesione incondizionata che Petrarca aveva dato al tentativo di colla di Rienzo. I due lutti, al di là di quella che è la dimensione privata ed affettiva, assumono però per Petrarca un fortissimo significato simbolico, sono proprio il segno della fine di un'epoca e questo lo spinge ad avviare un vero e proprio bilancio della propria esperienza umana e della propria esperienza intellettuale. È il momento della cosiddetta mutatio animi. Una mutatio animi che lo spinge a riunire tutte le liriche in volgare in un testo unitario e anche a raccogliere le lettere in latino in epistolari. Comincia a mettere mano a quella immagine di sé che vuole costruire per lasciarla poi alla posterità. Vuole fornire di sé un'immagine esemplare a tutti quelli che leggeranno le sue opere. Nel 1350 si reca nuovamente a Roma per il giubileo. Al rientro da Roma passa da Firenze dove conosce Giovanni Boccaccio, a cui si lega di una profonda amicizia e a cui si lega anche di un profondo sodalizio intellettuale. Tra il 1353 e il 1361 vive a Milano al servizio dei Visconti, in particolar modo al servizio del vescovo Giovanni Visconti. I Visconti lo impiegheranno per frequenti e numerose ambascerie che lo condurranno in giro per tutta l'Europa. Avrà modo di conoscere l'imperatore Carlo IV e avrà modo anche di andare a Parigi in questo periodo. È un periodo di intensa attività. Scrive diverse opere, opere per lo più di natura polemica, che investono l'ambito di una riforma etico-politica dell'Italia. Scrive l'Invectiva Contra Medicum Quendam, scrive il Dere Medi Sutriusque Fortune, scrive l'Itinerarium Ad Sepulcrum Domini Nostri. Tra il 1361 ed il 1368, abbandonato il servizio presso il cardinale Giovanni Visconti, si reca da Milano nella zona del Veneto. In particolar modo soggiorna tra Padova e Venezia, dove stringe un accordo con la Repubblica Veneziana secondo cui avrebbe ceduto la propria enorme biblioteca, che si era venuta progressivamente costituendo, alla propria morte in cambio di ospitalità. Qui conosce anche Giovanni Malpighi e affida a questo giovane scrivano il compito di trascrivere l'edizione definitiva del canzoniere. Nel 1368 si trasferisce definitivamente ad Arqua, sotto la protezione dei Da Carrara. Arqua è una località presso i Colli Euganei e qui avrebbe soggiornato fino alla morte, avvenuta nella notte del 19 luglio 1374. Grazie ragazzi per l'attenzione, spero che la lezione sia stata di vostro gradimento e chiara, qualora ci fossero delle difficoltà o delle incertezze o qualora qualcosa non fosse particolarmente chiaro, resto a vostra disposizione per chiarimenti su tutti i canali a nostra disposizione. Un caro saluto, buono studio, arrivederci.